Dopo che poco tempo fa è stato tolto il confine che era ancora simbolico tra Slovenia e Italia e ragazzi italiani e ragazzi sloveni mi hanno raccontato come le loro famiglie erano divise, erano state divise subito dopo la seconda guerra mondiale e qua mi sono resa conto come la storia invece di procedere e di andare avanti. Queste terre martoriate, facilissimo pensare al muro di Berlino, qui è una situazione di disperazione, di desolazione e di separazione, veramente le gocce del mare di Follow the Women.